Una carta storico-escursionistica per documentare e rappresentare i luoghi della Resistenza in Val Grande, una vera e propria mappa della memoria. L'hanno realizzata l'Enteparco Nazionale e l'Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce. La carta, in scala 1 a 30.000, in fronte e retro, oltre ad offrire tutte le coordinate GPS, descrive i diversi episodi ed eventi. Sono stati censiti anche i 79 lapidi e 71 monumenti e i luoghi dedicati alla memoria.